Hey Pipsu, welcome back per un'altra settimana di Dragon Age o... no, 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 questo è il 2 ci sarebbe piaciuto che fosse Origin, perché quello era bello, ma no, quasi giochiamo il 2 fino alla fine, fino alla fine, dall'inizio alla fine, bentornati speriamo di arrivare presto alla fine e vedere com'è il 3 come al solito, se siete appena arrivati, io vi do il benvenuto e se cercate degli RPG e qualcuno che li gioca dall'inizio alla fine, siete nel canale giusto avete trovato il posto giusto e vi invito a seguire il canale dunque, Dragon Age 2, c'è un po' deluso per certi versi, ci sta piacendo per altri un gioco un po' mixed feelings, la settimana scorsa ci eravamo lasciati abbiamo fatto un po' di giretti random, main quest, non main quest, capanne, cose varie io direi andiamo a fare un po' tutte le quest secondarie, perché giustamente abbiamo detto che le facciamo muoviamoci e vediamo da farsi, qui c'è una missione con Meryl, vediamo che dice, o meglio, per Meryl credo e magari anche con lei può essere puoi dirlo forte eh, non lo so, è amico mio e beh, 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 perché l'hai tenuto? perché qualcosa mi dice che non è sicuro neanche per niente che usciranno mille abomini da lì ok, vabbè, serve il mio aiuto, dobbiamo capire esatto non hai idea, il Keeper, non posso parlare con lei, combattiamo o parliamo in circoli vai, let's go, dai ci abbiamo una missioncina Maseranas, ti ricambierò il favoras ok, no, stavo per dire, dobbiamo andare con lei, non è vero, non è vero vabbè, usciamo da qua il nostro con Meryl l'abbiamo fatto e qui abbiamo la lunga strada che mi pare sia una missione delle principali no la lunga strada Aveline ha bisogno di parlarti nel suo ufficio della fortezza ma scusate, ma ci stavamo alla fortezza ci stavamo quando ci siamo lasciati la settimana scorsa infatti ecco, me l'ho dimenticato il pezzetto che non c'avevo altro tempo per registrare ci eravamo fermati qui ok, ma Aveline il suo ufficio è qui perché non mi fa la freccina che dice qui c'è, ecco, adesso ma l'affanculo, vediamo che dice ok, post diritto per diritto why not, cioè exp facile a parte che ormai l'exp l'abbiamo finita quasi finita yes ma chissà che diavolo è so curioso vediamo quando gliela portiamo tanto è da questa parte Donnich Mr. Donnich vabbè, vai marigold suona molto meglio di calendule è che figa è la versione ecco proviamo così va la butterà al secchio instant credo di sì o forse tipo, non lo so è presa bene che vuole fare colpo non lo so ed è il suo modo di fare colpo questo era un regalo carino lo sapevo ci avevo visto bene che impedita la caputana che ultra impedita potevo anche farci il provolino con lei ma stica non è il mio tipo che impedita porco due quindi era vero eh, lei sì che avrebbe saputo come fare eh, sì che è il cocco il pet ma è pure madonna sta facendo un casino lei eh sta facendo un casino avelen tre capri è un fascio di grano le porterete voi a sua madre what? ma che sta succedendo? beh, adesso l'ha capito lei è quella più sveglia di tutti ah un po' arrabbiata con lei vabbè diamo una mano eh, già come funzionerebbe baby proprio dritto così secco aspetta, aspetta lo facciamo vediamo come risponde come risponde cosa la pirata vediamo vediamo la piratessa se si incazza ma ha proprio ignorato diretto ha schippato quello che abbiamo detto va bene meeting the captain mo dobbiamo tornare da lui madonna questa quest carina però alla fine dai simpatica dobbiamo organizzare la cosa qua con la guardia da onni ccci 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 facile 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 Perché devo ricliccarlo Ah no è partito Ok vabbè pure questa l'abbiamo fatta Noi dobbiamo andare all'impiccato quindi Però mi dice come se io dovessi Che sta facendo lui No ok è scomparso C'era la freccia sopra non capivo Vabbè andiamo all'impiccato Vediamo che succede All'impiccato L'impiccato di notte Abbiamo due questa all'impiccato tra l'altro Isabella dobbiamo fare pure Che dice lei Bam Il meglio sotto coperta Non lo vedete Ma sotto il deck C'è una replica perfetta di te Con un po' di salari In attenzione No fuck E no fuck Niente Allora Tony C'abbiamo anche Varric Con cui parlare Let's go Vediamo un po' Che dice pure lui Cioè li dobbiamo fare amici Sti ragazzi C'è una cena bevuta prima Ma Riven è fuori dalla nostra portata di gioco chiuso Boxato dentro Dentro la stessa città No? Possiamo andare a trovarlo Invece Lo andiamo a prendere Lo andiamo a prendere in queste puntate Direi proprio di sì Vai vediamo Donnich Che dice Mister Donnich Che scena di merda Questa è simpatica Devo dire Ce la farà arrivare Averin Adesso verrà tutta vestita carina Another round Oh è arrivato Ma no dai Vestita full armatura Poteva venire vestita caruccia Ma tipo qualche argomento Qualcosa no? Si beve e basta Era tutto l'opposto È successo un disastro Lei è proprio spastichella Ma chi è? Ah è quell'altra cosa Ok È un'altra delle guardie Quella con lo spadone E allora andate in pattuglia insieme no? Non c'è un'altra cosa Non c'è un'altra possibilità Non c'è un'altra possibilità Non c'è un'altra cosa Ah quindi noi facciamo il pattugliamento E lei Fa la mugnagna Ce può sta Ce può sta Perché dobbiamo riparlare Chi è questo qua? Questo è un altro tizio ulteriore Madonna Ci abbiamo mille quest Qua dentro È un altro tizio ulteriore È un altro tizio ulteriore È un altro tizio ulteriore Ma isn't efficace I'm paid and blessed and all I had to do was turn my head turn my head from what to all my friends Hey step back I know important people we're gonna show this city what to do with heath and oxman Let's see how you do when your target doesn't have their weapon bound I never touched them I can take the likes of you You want some of this take it from me and my new friends Uh era proprio quello che volevo dai un bel fight Eh adesso è da solo Yeah andiamo Devastiamoli questi Ma stanno facendo questi qua Distrutto Si accascia il ragazzo Si accascia Uffa la cucina I templari stanno a fare uno super schifo comunque su Dragon Age 2 Cioè sono la retta via proprio inesistente Ecco infatti Proprio merda boy I merda boys sono i templari Hanno cambiato nome Vabbè qui abbiamo finito tutto quello che dovevamo fare Possiamo andarcene e dovevamo andare Dovevamo andare Ha la lunga strada a fare la cosa giusto Ah poi abbiamo pure quella dello specchio Andiamo qui facciamo la pattuglia che voglio far Far prendere bene i due Puiccioncini Puiccioncini Facciamo un save game Andiamo Con la nostra lady Lei comunque fa veramente un bel dips ormai eh Diventata bella forte Fa quel DPS sostenuto Che dà mille botte Spadone Vabbè Ma che sosti troppo adesso Abbiate pazienza Questa merda Embryum Poi le devo andare a craftare un po' di Di pozzoncine Ullala Ma come cazzo ha fatto a prenderla Questo si è spento di Mabbari Abbiamo rotto i Mabbari Fuoco di segnalazione Ah nevermind Ci sono altri 900 Mabbari Signori E fanno un rumore agghiacciante Fastidiosissimo E tra l'altro non si sono neanche sbattuti A fare le due cazzo di texture diverse Tra Mabbari al lato Tutti esattamente identi Assurdo perché nell'uno ce n'erano Con texture differenti Quindi bastava che prendessero Gli stessi pupazzetti Finiti Oh ne arrivano altri dal cielo Inventario pieno Vabbè vaffanculo Va bene così Fuoco di segnalazione Una bella notte per essere una serata Proprio come dice Mi dà ragione Solo perché è il capitano Che belle stelle Per essere astri E' veramente Veramente scarsissima Prima di Corvo Non ci frega niente Andiamo avanti Andiamo avanti Continuiamo a dare la mano a sta ragazza Vediamo un po' Vediamo un po' Uh eccoli qua Venite 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 a menarmi Anello Con il vento Metacone Divento invisible E' lei fa Pum 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 A velocità curvatura E' per stare cose E' lei fa Questo andava Shotato subito Eccola Questo qua Ci ha forzato alcuno Eccolo No quasi Quasi Questo che diavolo faceva Svinge Ultimamente Non stiamo comprando Un istante Vabbè Bottiglia di brandy Di antiva Invecchiata Addirittura Questo assassino Ci ha droppato Qualche soldino Qui ci abbiamo L'altro cosa Vediamo un attimo Il La cassa Qui dentro Che c'ha Mamma mia Rega La roba Proprio lurida I drop Proprio marci Quenching Quenching Sì esatto Tra l'altro Il quenching Che è un Processo di Temprare No E' molto Interessante E io non so Sicuramente Se seguite Gli RPG Vi piacciono le spade Eccetera Avrete visto Un po' Come si fa Su youtube Che gli fanno Un po' Di video Di come Si temprano Come si Proprio si fanno Le spade Eccetera E il quenching E' figo Ovviamente La metti Bella incandescente Quando è ancora Bella calda Dentro questo Olio Questo mix Di olio Apposito Per Per la Temperatura E la fa diventare Bella tosta E ci sono Tanti Metodi E tante Tecniche Differenti Tra le varie I vari stili Di 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 Arma Che uno vuole fare Eccetera Altri cani Che palle Ci sono diversi stili Ed è molto interessante I fabbri di una volta Ovviamente non esistono Quasi più Però quelle tecniche vecchie Che si trovano Su alcuni canali di youtube Che fanno vedere Come si facevano le armi Una volta Sono Super stonks Super super stonks Se sono belle tutte Uno magari direbbe Beh ma l'artigiano giapponese Che ti fa la katana E' più speciale Non è vero Perché sono fighe tutte Il E' proprio un'arte Essere dei fabbri C'è cazzo da fare Molto figo Vediamo adesso dove vanno a parare Questi qua Se riusciamo a farle dire qualcosa Che abbia senso Anche se Ho i miei dubbi Ma lui è morto Ok Lui ha subito Un attimo Oh Arriva gente A muzzo Dal niente Questo schiavista Lo Lo smeltiamo Subito Morta pure lei Che palle ragazzi Questo fa Sti giochetti Quella cosa E vabbè E non manca solo lo schiavista Che E diventa invisibile E poi fa lo scudo Madonna Uccidere un mago E' proprio una rottura Di coglioni Meno male che non c'ha Il misty step Come su dnd Se no Arrivederci Se ci avesse avuto Misty step Tutte le faccende Che c'hanno i maghi Su dnd Addio Non li becchi mai più Tra l'altro A proposito di dnd Ehm 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 Giocheremo Quando uscirà completo Ehm Come si chiama Baldus Gate 3 Che sorpresa Aveline Hawk Don't We don't have all night You know Would someone please Tell me what's going on Ok Andamo Captain Captain Mamma mia No vabbè Sono proprio degli spasmi Tutti e due Dai su Ma porco due Presenterà un reclamo What Ma no Ma porco due Double time Vabbè Potevamo fare di meglio Sì Però pure lei Poteva fare un po' di meglio Devo dire Lei ha fatto proprio Pasticcio Vabbè Andiamocene da questo posto Ma via via Lo schiavista Stanciava niente Soldi Soldi Che vanno bene Quindi giocheremo Baldus Gate 3 Sicuramente L'avevamo cominciato Con Martelli Non so se lui Ci avrà abbastanza tempo Da Riuscire a dedicare Abbastanza ore A settimana Per Per il progettino Coop Spero di sì Poi quando saremo Vicini alla release Ne parleremo E Cercheremo Di organizzarci E invece Stavo vedendo Che Mi sa che già l'ho detto Poi su Le puntate Di Mass Effect Faranno un remake Di Knights of the Old Republic Grande RPG Vecchia scuola Potrebbe darsi Che Lo andiamo a sostituire A sostituire Insomma Diventerà la seconda serie Quella fantascientifica Che adesso Diciamo La seconda serie In questo momento È Coso Mass Effect Ed è Fantascienza Quindi La seconda serie Che è di Fantascienza La continuiamo Con un'altra serie Di Fantascienza Bisogna vedere Però Bisogna vedere Perché da quello che ho capito Sarà un'anteprima Per PS5 Ma per quanto Sarà un'anteprima Per PS5 Da qua Fino al 2003 Non lo sappiamo Non lo sappiamo Perché fanno queste cagate Poi Durano tanto E a volte È un po' Un problemino Basta Oh È mo' Dire a capitano Dimmi da Pussi E basta Dimmi da Pussi Posso E arrivederci Dimmi da Dimmi da Pussi Posso Come cosa No? Il mitico Filty Frank Che bella Che era Quella canzoncina Oh 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 Forse No Vediamo un po' Che dice Avelin Oh Dice a zì Grazie Mi ha fatta una pelle Che fermate Guardsman Donnick Did not File a complaint This was all incredibly stupid And you made it wonderful You've finally mastered the obvious I'll take your word on the second part You'll get the chance I was mute And now I want to sing Please don't I just There's no way I can ever repay you Perhaps it's simple Il banter comunque è fatto bene Carino Questo sì Questo sì Alcune cose Di dragonage Sono state mantenute Sato che fossi irrecuperabile Sì Quindi fate attenzione Lei sarà la nostra amica Per il gran finale Prima bussate Perfetto Credo sia un'allusione Al fatto che potremmo entrare Mentre si stanno facendo una pelle Ma Non ci interessa Non credo che dovremo tornare Da Avelin Mai più Probabilmente Ok ok La faccenda di Avelin è fatta Io andrei di qua E vediamo C'abbiamo mille missioni Da fare al monte spezzato Let's go